Ibrido P0551, classe 400 tardivo, ibrido a triplice altitudine, granella, pastone e trinciato. È l'ibrido perfetto per chi vuole anticipare le produzioni, non perdendo niente a livello di resa sia di granella che resa energetica nell'insilato. La pianta si presenta di taglia medio-alta con inserzione della spiga media, la spiga è molto regolare, un suo punto di forza sicuramente è la stabilità. Ottimo apparato radicale con un stocco importante e veramente robusto. Come dicevo la spiga è tozza con tanti ranghi, granella farinosa. Questo ibrido rientra anche nel nuovo brand N-Cube, caratteristico di insilati dal grandissimo valore della sostanza secca energetica e dell'amido.